A proposito di comportamenti responsabili, è sempre bene fare appelli perché non si utilizzino fuochi d'artificio. Domani è ancora più importante perché purtroppo i cumuli di spazzatura rischiano di diventare un focolaio per qualche incendio, visto che i fuochi potrebbero appiccare incendi là dove ci sono dei cumuli non rimossi. Non ci sono cumuli non rimossi, c'è un consumo enorme in questi giorni, quindi anche domani sera ci saranno dei sacchetti di spazzatura nei contenitori, ma al di là di questo non bisogna sparare in maniera assolutamente illegale e irresponsabile. Se qualcuno evidentemente ha dei soldi perché compra botti pericolosi, li utilizzi per esempio per andare nei negozi in cui c'è l'iniziativa sponsorizzata al Comune di Napoli, un giocattolo sospeso e compra un giocattolo per un bambino povero. Ecco, questo è essere napoletani per esempio. Io credo che questa abitudine dei botti pericolosi debba finire nella nostra città. Ci sono fuochi consentiti, tra l'altro ci sono i fuochi organizzati dal Comune di Napoli che si vedranno dal lungomare, dal borgo marinare, quindi non c'è veramente nessuna esigenza. Ci sono anche dei fuochi che sono consentiti dalla legge, si utilizzano quelli, ma gli altri mi auguro davvero che non vengano utilizzati, è uno spreco di denaro, è un pericolo per chi li utilizza, è un pericolo per gli altri. È vero che negli ultimi anni la conta dei feriti e fino anche ai miei dei morti è molto diminuita, ma non ci accontentiamo di quello. Quindi l'appello lo faccio perché tra l'altro i botti sono un pericolo anche per la salute degli animali, non ce lo dimentichiamo mai, che soffrono enormemente, soffrono le persone ma gli animali molto di più. Quindi è un tema di sensibilità e di maturità. Napoli sta vincendo tante sfide, io capisco che è un'abitudine, ma trasformiamola in un'abitudine con i fuochi legali, con i fuochi autorizzati, oppure nello stare tutti quanti insieme, nel fare più solidarietà, nell'aiutare le persone povere. Non può essere il Natale il capodanno del consumismo. Noi siamo contenti che si consuma tanto nella nostra città e lo vediamo anche dai rifiuti, ma deve essere anche il Natale il capodanno della solidarietà. Quindi chi deve comprare una bomba che ha una capacità esplosiva, tale da sventrare anche delle saracinesche, faccia qualcosa di beneficenza per la nostra città e per i nostri bambini soprattutto in difficoltà e per le persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese e che quindi non si possono permettere un giocattolo o una cena di capodanno. Grazie.